È il momento della Meriden-Monsummano. Dopo il successo nel derby, la squadra di coach Nicolai si è ripetuta con l'Empolese, avversario diretta nella corsa alla salvezza, allontanandosi ulteriormente dalla zona a rischio, ora distante, ben sei punti. Contro la Computer Gross, la formazione termale ha messo in mostra una difesa ermetica, un buon atteggiamento mentale, soprattutto nell'approccio alla partita, le ottime individualità di Circosta all'inizio e Scarone nel finale e un Vannini straripante per tutta la gara. È una vittoria che ci fa fare un salto di qualità importante nella lotta per la salvezza, adesso dipende tutto da noi, continuando con questa intensità, con questa voglia, dovremmo riuscire a portare la barca in porto. Chiaramente abbiamo visto tutti i colori nella nostra carriera, negli anni che tutti abbiamo seguito la palla canestro, quindi sono tanti punti ancora in palio, può succedere di tutto, quindi non bisogna abbassare la guardia. Però la cosa importante è che adesso è tutto nelle mani nostre, è la cosa che ognuno che fa sport vuole conquistare. In Casa Valentinas invece c'è amarezza e un pizzico di rabbia dopo il K.O. rimediato al Palatenda di Piombino contro il Basket Golfo. I gialloneri sono stati superati 74 a 69 dai Livornesi che con questo risultato hanno anche ribaltato la differenza canestri rispetto al match d'andata. Peccato perché il gruppo di coach Valerio era stato seguito da un centinaio di tifosi, un esodo importante per un paese piccolo e una società così giovane. Ora c'è da difendere il settimo posto in classifica.